Guarda, sono 23 anni ed è un appuntamento importante, l'appuntamento che aspetto sempre perché è un carico d'amore, di voglia di vivere e loro mi hanno insegnato l'importanza della prevenzione perché la prevenzione ti salva la vita, il tumore se preso in tempo si può sconfiggere per sempre e mi hanno insegnato l'amore per la vita che invecchiare è un dono e non è qualcosa che ti deturpa o ti fa sentire che non sei all'altezza, di conseguenza per me la Comen è il mondo perfetto dove le donne, le persone sono unite e lottano per il bene della vita. Questi anni ne ho incontrate veramente migliaia perché purtroppo il tumore ancora del seno è molto diffuso e ognuna di loro ha la solitudine, però attraverso la Comen non sono più da sole, qui trovano sempre una spalla per essere confortate, le cure giuste, ma si è una grande famiglia e soprattutto non si ha più vergogna perché a volte le donne si vergognano perché colpisce la loro femminilità colpisce il loro essere donne e soprattutto purtroppo tante donne restano da sole perché gli uomini scappano davanti alla malattia, perché è una malattia che fa paura che ti toglie la femminilità, ti toglie i capelli, ti toglie momentaneamente tutto quello che per te è importante ma invece attraverso la Comen tutto questo accade in un modo forse meno doloroso, non sei da sola e lo si affronta anche con il sorriso perché sono tante le donne che stando insieme alla fine lo prendono come qualcosa che lo sconfiggi veramente con il sorriso e con l'essere una amica dell'altra il tumore non è soltanto di una donna ma è il tumore di tutte, lo si sconfigge tutte insieme Grazie a tutti